Ciao a tutti, ecco voi un nuovo video, in questo video finalmente vedrete cosa faccio dalla A alla Z per sanificare, disinfettare e sterilizzare con autoclave i prodotti. L'unico passaggio che manca in questo video è l'utilizzo dell'acido peracetico, della sterilizzazione a freddo, che trovo che sia molto molto importante prima di utilizzare l'autoclave. Purtroppo avevo terminato il prodotto, ma ve lo consiglio subito nell'intro di utilizzarlo, ve lo dirò anche nel resto del video. Comunque questo video è molto incentrato, soprattutto per invogliare le persone che hanno clienti, che hanno centri estetici, centri unghie, insomma tutto quello che ha contatto con le altre persone, ormai l'evoluzione negli anni si è capito cosa utilizzare alla perfezione per evitare problemi, per evitare malattie alle unghie, insomma per soprattutto la trasmissione di batteri o virus molto molto forti e molto molto gravi. Quindi mi raccomando seguitelo con attenzione e vi faccio già subito un'altra premessa, se avete suggerimenti, consigli o critiche, fateli tranquillamente sotto questo video perché mi serve assolutamente per imparare, per migliorare, per sapere anche cosa il mercato attualmente offre, perché qualsiasi cosa potrebbe essere anche attualmente superata, insomma il mercato è talmente in evoluzione, soprattutto con l'arrivo del covid, la questione di disinfettare, sterilizzare è diventata veramente vitale e quindi appunto i suggerimenti sono ben accetti. In questo video utilizzeremo l'autoclave Embio, che sapete che per me è un must have, bisogna assolutamente e necessariamente averla e vedrete due tipi di sterilizzazione, quella subito, veloce, dove mi servono subito in questo momento gli attrezzi o quella dove potete comunque tralasciarli e lasciarli entro 30 giorni nei sacchetti sterilizzati. Questo è un punto molto molto importante, spero che il video vi piaccia, fatemi sapere tutto, al prossimo un grosso bacio, ciao! Come prima cosa prendiamo questa spazzolina e andiamo a rimuovere tutti i rimasugli di polvere che sono rismassi sulle punte. Vi faccio vedere questa perché era una punta veramente molto impolverata e piano piano con questo sistema il grosso, comunque gran parte della polvere è andata via. Dopo cosa facciamo? Ci dedichiamo a disinfettare le punte, quindi prendiamo questo prodotto, il link ve li metto comunque sotto, che si chiama Diazol, che sarà comunque in ammollo, le punte saranno in ammollo per circa massimo 15 minuti. Prendiamo un contenitore, consiglio sempre i contenitori in vetro che dedichiamo solo a questo, ci mettiamo dentro tutte le punte, ci mettiamo anche il liquido fino a completa copertura delle punte e attendiamo. Intanto ho preso gli altri attrezzi, li ho messi su un vassoio con della carta scotex classica e li posizioniamo ben bene perché adesso ci occupiamo questi, quindi andiamo a disinfettare questi prodotti. Io utilizzo questo che si chiama Sinerzan e è un prodotto spray che andremo a spruzzare sui singoli attrezzi e sarà in posa circa 3 minuti massimi e qua ho deciso di farvi vedere anche le istruzioni che vengono rimportate dietro su come viene utilizzato. È un prodotto molto molto valido, utile e può essere anche utilizzato non solo sugli oggetti ma anche sulle superfici perché vi ricordo che dobbiamo rendere perfetta tutta la nostra postazione. Come vedete spruzzo delicatamente del prodotto. Il concetto è sterilizzare e sanificare e quant'altro tutti gli attrezzi e avere delle cose monouso, quindi vuol dire che vanno buttate a ogni utilizzo. Io ho buttato a ogni utilizzo, cosa faccio? Butto i buffer, tant'è che li ho presi piccolini giusto per un utilizzo e li ho presi su Aliexpress che sono questi e poi vi consiglio le lime o monouso oppure le lime adesive. Io ho ancora in casa questi della Tammy Taylor che ne avevo fatto una scorta immensa, però visto che oggigiorno tante marche, mi pare anche Passione Unghie, le faccia, quindi insomma si sono voluti su questo fronte. Secondo me questo è il miglior sistema, quindi avere la lime adesiva che viene buttata a ogni cliente, oppure prendete le lime e le buttate, insomma basta che a ogni cliente venga buttata, non si devono assolutamente tenere. Mi raccomando un punto molto molto importante, perché ai tempi il sistema era diverso, ad oggi che sappiamo bene quale può essere il protocollo da utilizzare, mi raccomando buttatevi alle cose. Passato il tempo ci richiamo al lavandino, perché dobbiamo comunque pulire tutti gli oggetti. La prima cosa che io pulisco è questa spatolina, perché poi mi aiuterà a pulire bene tutte le punte. Quindi io prendo in mano le punte e le passo con questa spazzolina, che tanto io ho sanificato. Nella realtà se vogliamo fare un lavoro perfetto, bisognerebbe tenerne una solo per questa funzione. Io non ce l'avevo, quindi mi sono un attimino arrangiata, perdonatemi per questa cosa, comunque ve l'ho messo anche a rallentatore questo video, puliamo esattamente per la perfezione tutte le spazzoline. Passiamo a fare lo stesso passaggio anche con tutti gli altri strumenti, perché li dobbiamo tutti lavare alla perfezione, perché devono essere puliti e lindi, perfetti, per essere poi messi ancora su un vassoio, dove siete più comodi voi, asciugarli alla perfezione. Ora prendiamo i sacchetti per imbustare e sterilizzare. Io avevo a casa questi, che li avevo presi veramente tantissimo tempo fa, vorrei anche su questo punto aggiornarmi un attimino, prendere qualcosa secondo me di un po' più bello, un po' più grande insomma. L'importante è che voi mettiate la data, perché questi sacchetti e la sterilizzazione durano massimo 30 giorni. Quindi con la data vi può essere utile sapere appunto il tutto. Iniziamo a imbustare i prodotti. Io non fate buste troppo piene e oltretutto meglio ancora se avete le buste più grandi, perché le forbici sarebbe bene imbustarle aperte. Se invece vi serve subito qualche prodotto o perché dovete utilizzarlo, andiamo a lasciarle così come state vedendo e a fare con l'autoclave, io utilizzo quella di Embio, il giro di 7 minuti massimo. Invece imbustate quello di 15 minuti e dovete far sì di mettere la plastica verso la parte esterna come vedete e mai plastica plastica a contatto. Una volta che avete posizionato tutti i prodotti è meglio non riempirla troppo, piuttosto fate due passaggi, io sinceramente ero un po' al limite, però era più che altro per farvi il concetto del video. Una volta che avete messo tutto dentro la perfezione, chiudete e fate partire appunto i 15 minuti. Quindi avete due scelte a secondo di se vi servono subito gli attrezzi o dopo. Tenete conto che se non imbustate e mettete nel cassetto la sterilizzazione va a vanificarsi perché rimane sterilizzato solo quello che rimane appunto imbustato. Spero di avervi detto tutto, spero di non aver dimenticato niente, se mi sono dimicata qualcosa vi scuso, come vi dicevo prima dell'autoclave vi consiglio per fare un lavoro ottimale o di utilizzare anche l'acido peracetico. Se vi interessano altri video fatemi sapere, se no al prossimo un grosso bacio, ciao!